spiega cosa stiamo facendo qui stiamo facendo la classica panissa vercellese seguendo la ricetta dei nostri nonni tramandata di padre in figlio cosa stai aggiungendo adesso adesso stiamo aggiungendo il brodo fatto con fagioli uno stinco e le famose costine di maiale quanta quanta ne fate stasera quanti chili di riso arriviamo a fare circa 20 kg di riso grazie grazie